Mantieni la calma Willex Per, diciamo, attivare gli eventi free mode dedicati al nuovo DLC di Halloween di cui ve ne ho parlato nel precedente video Infatti vi avevo detto, oltre a mostrarvi i contenuti che abbiamo quest'anno a tema Halloween in GT Online Ho detto che quest'anno abbiamo una novità per quanto riguarda gli eventi free mode Perché Rockstar, diciamo, ha rilasciato degli eventi free mode a tema Halloween Dove sarà possibile incontrare due tipologie diverse di eventi, ok? La prima tipologia riguarda un autofantasma, mentre la seconda tipologia riguarda quattro assassini giocati da praticamente un NPC Che appunto tenteranno di uccidervi, lo stesso discorso vale per la macchina Diciamo che sono eventi free mode che spawnano nel gioco in una determinata fascia oraria, di notte sostanzialmente E oltre a questo Rockstar, sempre con il rilascio dell'aggiornamento settimanale riguardante i contenuti di Halloween Ha inserito anche un altro, possiamo dire, evento, anche se non è effettivamente un evento Diciamo che c'è la possibilità, sempre in questa fascia di orario, di incontrare degli UFO che sorvoleranno alcune zone E non c'è nulla di particolarmente interessante, diciamo, riguardo questi UFO Alla fine, in una determinata fascia di orario, questi UFO spawnano e potrete semplicemente osservarli Magari c'è qualcosa di molto più profondo dietro, ma non sono io la persona che appunto vi può spiegare Insomma, perché Rockstar ha messo questi UFO in GT Online Comunque ragazzi, andiamo per gradi, in questo video vi spiegherò appunto tutto quanto Quindi signori, prima di iniziare, sapete già cosa fare, mi raccomando lasciate il vostro mitico bel Polyshonsons in su a questo video che a me fa veramente tanto piaciuto Mi raccomando, iscrivetevi al canale per altri contenuti E niente, possiamo subito iniziare partendo proprio dalla base Perché è giusto che vi faccia sapere che cosa Rockstar ha combinato, ecco, nell'ultimo periodo Quindi partendo dalla base, sostanzialmente ragazzi, il giorno 14 ottobre 2021 Rockstar con l'aggiornamento settimanale ha introdotto una modalità chiamata Sightseeing Questa modalità Sightseeing consisteva semplicemente nello spawn di UFO in determinate zone della mappa Ora sicuramente avrete già visto qualche video su YouTube a riguardo Però vi spiego molto brevemente che cos'era questa modalità Sightseeing Semplicemente alcune persone su Twitter avevano leakato questa modalità Praticamente avevano detto che appunto nel periodo di Halloween ci sarebbero stati nuovi eventi a tema rilasciati da Rockstar Games E quindi questa modalità Sightseeing consisteva in praticamente 6 giorni diversi 6 spawn di UFO diversi Qui infatti ragazzi vi lascerò la mappa, anche se ormai obsoleta, però vabbè Questi erano tutti i punti dove appunto in questa modalità Sightseeing Potevano spawnare questi UFO, ognuno che sorvolava una zona diversa Alcuni di questi UFO semplicemente diciamo che sorvolavano una zona dove ci sono altri UFO Vi faccio un esempio, tipo il numero 1 che spawnava Paleto Bay, quindi diciamo l'UFO del giorno 14 Praticamente andava a sorvolare questa zona di Paleto Bay al tri UFO come ad esempio quello del Monte Ciliad Praticamente andava ad illuminare la cabina della funivia del Monte Ciliad Non si sa per quale motivo, io sinceramente mi aspettavo tipo che proiettasse da un'altra parte Tipo sul murale, invece a quanto pare appunto l'UFO del Monte Ciliad sorvolava questa zona del Monte Ciliad E il suo fascio di luce era proiettato sulla cabina Ora ho visto su YouTube qualche cosa, ho visto appunto alcuni video su YouTube a riguardo E praticamente in questa cabina ragazzi si trova un cubo, ok? Di cui non si sa bene il suo scopo, magari è semplicemente un easter eggs O magari c'è qualcosa di più grande che magari Rockstar vuole farci sapere, non lo so Però comunque è molto interessante come evento E appunto in sei giorni diversi, tra le nove di sera e le cinque del mattino Potevate incontrare questi UFO che facevano parte di questa modalità sightseeing Dovete sapere anche che non potete avvicinarvi troppo a questi UFO Altrimenti il motore vi si spegne e l'UFO scompare Nonostante questo, potevate vedere questi UFO anche con un amico A patto che ovviamente non vi ci avvicinavate troppo Se vi avvicinavate troppo, praticamente nel cielo ci sarebbe stato un grande fulmine Che farà scomparire appunto questi UFO Questa modalità sightseeing è andata avanti fino al giorno 21 ottobre Giorno del rilascio di questi nuovi eventi free mode da parte di Rockstar Games Era una modalità abbastanza interessante Insomma, c'erano questi UFO che spawnavano, li potevate vedere Fine, non c'è altro da dire Insomma, un po' la mezza cagata Ma secondo me c'è qualcosa di più grande sotto Arrivando al giorno 21 ottobre Rockstar ha rilasciato i contenuti del DLC di Halloween E insieme a questi, anche questi eventi free mode che consistono nello O lo spawn di UFO in una determinata fascia d'orario In zone diverse dalla mappa Oppure avete la possibilità di incontrare un autofantasma Oppure la possibilità di incontrare dei killer assassini Di cui ve ne ho parlato nel precedente video Partendo dall'evento UFO ragazzi Questo evento UFO può spawnare semplicemente in una qualsiasi sessione di GTA Online Che siate da soli o con altri giocatori Tra le 9 di sera e le 5 del mattino Il primo UFO che potete vedere è questo qui Che si trova in questa zona della mappa E l'UFO è visibile anche a molti chilometri di distanza Chiaramente lo stesso discorso fatto per la modalità sightseeing Vale per questi UFO Quindi se vi avvicinate troppo L'UFO scompare e dovrete aspettare la notte successiva in GTA Online Ossia 48 minuti di vita reale Ogni 48 minuti insomma passa un giorno in GTA Online Quindi potete semplicemente ragazzi ammirare questo UFO da lontano E basta insomma non c'è altro da dire Però meritava di essere menzionato questo evento Perché comunque del video precedente non ve ne ho parlato Questo evento UFO ragazzi fa sempre parte appunto dell'aggiornamento di Halloween Purtroppo ragazzi lo spawn è casuale Però comunque ripeto Questo evento primo dell'UFO andava menzionato Parlando invece degli eventi Sappiate anzitutto che vi serviranno dei requisiti specifici E minimi per poter partecipare agli eventi E sono questi che leggete nella descrizione Se avete tutti i requisiti E mi raccomando sono importanti per poter avere la possibilità di triggerare questi eventi Volevo precisare anche una cosa riguardo i 16 minuti Ovvero ragazzi questi 16 minuti riguardano la vita reale Quindi dovrete essere in sessione da almeno 16 minuti di vita reale Partendo dalla prima tipologia Questa ragazzi è una tipologia di evento free mode Che si può manifestare attraverso due modi Come vi ho detto prima O una macchina fantasma che tenderà di uccidervi a tutti i costi Oppure vi possono spawnare dei killer assassini Così li chiama Rockstar Games Di quattro tipi diversi che faranno lo stesso della macchina Ma con la differenza che tre di questi possono spawnare solo in alcune zone specifiche della mappa Che vi mostrerò in questo video E non c'è bisogno inoltre di avere un minimo di due giocatori in sessione Per quanto riguarda i killer Partiamo dalla macchina fantasma La macchina fantasma è sostanzialmente un'auto senza pilota Quindi appunto un'auto fantasma Che si ispira ad un film di Stephen King del 1983 Chiamato Christine Dove appunto in questo film c'è quest'auto Senza nessuno che la guida Che appunto vuole uccidere chiunque abbia davanti E proprio come nel film La funzione di questo evento della macchina Diciamo che è la stessa Come vi ho detto prima E per attivarla servono almeno due giocatori in sessione Entrambi che siano all'interno della sessione da almeno 16 minuti di vita reale Inoltre l'evento può spawnare solo Mi raccomando solo Ad un giocatore in sessione Però ho notato che se tipo siete in macchina con un vostro amico E la macchina capita a voi Ma per esempio scende il vostro amico Questa comunque tenterà di uccidere il vostro amico Quindi in un certo senso possiamo dire che potete anche condividere Ecco questo evento E come ripeto l'evento può spawnare solo ad un giocatore nella sessione Quindi se per esempio siete in una pubblica da soli L'evento può spawnare o a voi o ad un vostro amico A patto che appunto entrambi i giocatori Siano all'interno della sessione Da almeno 16 minuti di vita reale Mi raccomando inoltre Sottolineo questa cosa A non usare nessun tipo di veicolo armato O elicotteri, barche e via dicendo Perché altrimenti non funziona l'evento E diciamo lo stesso vale con i killer Insomma Per attivare questi eventi ragazzi non dovrete stare tipo all'interno delle deluxe All'interno di un oppressor MK2 Elicottero, barca, yoke Ma usare un veicolo normale Un veicolo acquistabile da leggendari motorsports Oppure rubare un veicolo dei civili Oppure stare a piedi nella sessione Questo ragazzi insomma è il gameplay della macchina assassina Diciamo che appunto spawnerà in un certo orario del gioco Ovvero tra le 9 di sera e le 5 del mattino E appunto se avete la possibilità Spawna a voi Allora appunto avrete possibilità di giocare con questa macchina Un'altra cosa che ho notato Che purtroppo molte persone non hanno menzionato nei loro video È il fatto che la macchina Praticamente resta spawnata per pochi minuti Quindi inizialmente Qui appunto come vedete in queste clip Che è successo? Inizialmente insomma ragazzi Mi era spawnata la macchina Però non appena ho provato a colpirla Questa è scomparsa Quindi praticamente proprio la particolarità di questo evento Insomma quindi la macchina spawna Per pochi minuti Non avete diciamo la possibilità di fare niente Non potrete sparargli Perché comunque non appena proverete a sparargli Tipo con un lanciarazzi O un lanciagranate La macchina andrà a scomparire un attimo dopo Quindi diciamo che avrete possibilità di giocare questo evento Ma per pochi minuti In quanto la macchina andrà a scomparire da sola Un'altra cosa che ho notato Che merita di essere menzionata È il fatto che tipo Anche se siete in un veicolo E siete in AFK Vi spawna la macchina Questa resta ferma Per poi scomparire poco dopo Se non avete appunto interazione con la macchina Lo stesso vale per i killer Con la differenza che i killer possono spawnare In determinate zone della mappa Mentre appunto la macchina Può spawnare in tutta la mappa di Los Santos Insomma ragazzi Non c'è molto da dire Come vedete qui Vi lascio delle clip della macchina È un evento che spawna tra le 9 di sera e le 5 del mattino Se vi capita la possibilità di incontrare questa macchina Ragazzi Allora tanta tanta roba Avrete la possibilità di giocarci Parlando dei killer ragazzi Questi killer sono di 4 tipologie diverse E possono spawnare Come vi ho già detto In diversi punti della mappa Questi killer appunto sono 4 E sono il clown Il driver Lo psycho E lo slasher 3 di questi A parte il clown Potranno spawnare in diverse zone della mappa Come vi ho parlato nel video precedente Mentre per quanto riguarda il clown Questo potrà spawnare all'interno della città Lo scopo qual è? Semplicemente giocare questo evento Insomma Voi state cazzeggiando Con la vostra auto State correndo per la mappa Una certa vi spawna appunto questo killer Come fate a riconoscere Che si è attivato l'evento Semplicemente ragazzi Quando state appunto con la vostra macchina O comunque state in sessione Il radar lampeggerà per un attimo Ci sarà un flash bianco diciamo E poi comparirà un pallino rosso Sul radar Quindi se per esempio siete senza audio Ve ne potete accorgere Che è spawnato questo killer Semplicemente perché andando a guardare la mappa Ci sarà questo puntino rosso Che sarà ad indicare Che appunto è spawnato Un determinato tipo di killer In base alla vostra posizione I killer sono semplicemente ragazzi degli NPC Con un'arma in mano Che tenteranno di ammazzarvi L'evento così come per la macchina Terminerà quando Come appunto vi ho già detto O andrete ad ammazzare voi il killer Oppure il killer andrà ad ammazzare voi Una cosa che dovete sapere riguardo lo Psyco Ovvero che se riuscirete a battere lo Psyco Rockstar vi darà questa maglietta Che starei vedendo nel video Quindi se riuscirete ad appunto Uccidere lo Psyco Allora avrete possibilità di vincere questa maglietta Entro il primo novembre Vi darà appunto questa maglietta speciale Mentre per quanto riguarda gli altri killer Ragazzi semplicemente Cambia appunto la tipologia Di come questi killer sono vestiti Insomma come anche gli effetti sonori Quindi alla fine il funzionamento di tutti i killer Ragazzi è lo stesso Quello che cambia è la posizione di spawn I suoni che questi NPC Emettono quando vi avvicinate A esso Così come per la macchina La macchina anche ha degli effetti speciali Che se siete con l'audio di gioco Potrete sentire Insomma ragazzi quest'anno Rockstar Ha voluto veramente alzare tantissimo La sticella Io sono molto contento di quello che ha fatto Ci sta come evento Non male dai Un po' di innovazione Anche se Sono cose riciclate Però a mio parere ci sta Cioè è un evento abbastanza interessante Dato che questi eventi Spawnano in free mode Avete anche la possibilità Appunto come vi ho detto prima Di condividere questi eventi Con gli amici Che siano i killer Oppure l'autofantasma Anche questi Spawnano Sempre in questa fascia di orario Quindi tra le 9 di sera E le 5 del mattino Però in alcune zone specifiche Della mappa Che vi ho mostrato Nel video precedente La differenza Di eventi Con la macchina E i killer E il fatto che i killer Li potete trovare Anche stando in sessione Da soli Però a patto che Siate in sessione Da almeno 16 minuti Di vita reale Quindi non vi serve Un altro giocatore Per far spawnare i killer I requisiti comunque Per far spawnare O la macchina fantasma O i killer Ragazzi Sono gli stessi Lo scopo di questi eventi Sono degli eventi Che si attivano O vi capita la macchina O vi capita il killer Se vi capita il killer L'evento finisce Quando O il killer Ha ammazzato voi Oppure Voi avrete ammazzato Il killer Lo stesso discorso Vale per la macchina La macchina Finchè non andrà A desponare da sola Ci potete interagire Ma non più di tanto Il consiglio che posso darvi Per attivare questi eventi Ragazzi Non ci sono consigli Cioè Prendete un vostro amico Andate in pubblica Fate una pubblica da solo Se non sapete come fare una pubblica da solo Vi lascerò appunto in descrizione Un video che vi permetterà Appunto di creare Una sessione pubblica da solo E nella sessione pubblica Ho notato che C'è diciamo Quel tot in più Di possibilità Per far Spawnare questi eventi Quindi magari Provate ad andare in pubblica Con un vostro Amico E vedete appunto Se riuscite a far spawnare Questi eventi Purtroppo ragazzi Non ci sono consigli Che posso darvi Sono degli eventi Che spawnano casualmente Tra le 9 di sera E le 5 del mattino Anche se effettivamente Ho notato che Dopo le 4 del mattino Orario del gioco Ci sarà un Tuono Un tuono ragazzi Molto molto forte Che sicuramente fa parte Dei contenuti Diciamo Di questi eventi Free mod Ho notato che Dopo questo tuono Che accade Alle 4 del mattino C'è possibilità Di far spawnare qualcosa Sostanzialmente Diciamo che Dopo le 4 Vi spawna qualcosa Ok Prima delle 4 ragazzi Non vi spawna niente Io ho provato Varie volte Moltissime volte Anche cambiando sessione Purtroppo ragazzi Dopo le 4 Spawna effettivamente qualcosa Prima delle 4 Dovete aspettare Quindi se non vi spawna niente E magari sono le 3 del mattino Orario del gioco Portate pazienza ragazzi Perché ho notato Che c'è più possibilità Di spawn Dopo questo tuono Che succede Alle 4 del mattino E' capitato anche Che mi ha spawnata la macchina Prima Di questo tuono Però ripeto ragazzi Non lo so Cioè Può essere tutto casuale Però ho notato che Gli eventi spawnano Diciamo con quel tot in più Di possibilità Dopo le 4 Del mattino Non lo so perché Questa cosa Cioè Tu mi dici Che l'evento si attiva Tra le 9 di sera E le 5 del mattino Però poi mi metti Effettivamente Uno spawn dopo le 4 Non c'ha senso A questo punto Rockstar Cioè Scrivimi Che alle 4 C'è un tuono Che si vede da tutta la mappa E dopo questo tuono Spawna qualcosa Non lo so perché Cioè Magari l'avranno fatto Per lasciare spazio Ai giocatori Non ne ho idea Sinceramente Quindi Niente ragazzi Io direi che ho parlato Abbastanza Non so neanche quanto sia uscito lungo Questo video Non c'è molto da dire Sui killer Signori Io spero Abbiate apprezzato Mi raccomando Se così è stato Lasciate il vostro mitico Bell Polly Shonsons In su a questo video Che a me fa veramente Mi raccomando Iscrivetevi al canale Per altri contenuti Attivando la campanellina E soprattutto ragazzi Vi ricordo di entrare nel mio gruppo E canale telegram Di cui anche questo Troverete il link In descrizione Vi ricordo infine Che se vi servono Account moddati Account glitchati Aggiunta di soldi E deluxe Nel vostro account Al prezzo più basso E migliore di tutta Italia Da persone serie Oneste Competenti E trasparenti Con voi Link del mio sito Ufficiale Di modding Nella descrizione Di questo video Io vi saluto Vi ringrazio ragazzi Da Krix è tutto Noi ci si becca Come al solito Con un prossimo video Prossima live Un prossimo glitch Bella Vagliù Ciao